Buon pomeriggio a tutti, io sono Angela e voi siete sul mio canale Tutto dal Web. Se avete seguito la puntata di oggi di Uomini e Donne, non avete potuto non notare la dichiarazione di Lavinia, che porta in esterna un corteggiatore, Alessio Campoli, e confessa proprio una cosa che noi non sapevamo fino ad oggi, di essere una nobile. La reazione ovviamente del corteggiatore è inaspettata. Lavinia nella puntata di oggi svela le proprie origini. L'altronista non nasconde infatti il proprio interesse per Alessio, dopo aver espresso il desiderio di lasciare la trasmissione. È tornato infatti sui suoi passi, su richiesta proprio dell'altronista. Dopo i dubbi e le varie prepessità, Lavinia e Alessio stanno cercando di instaurare un rapporto. E l'altronista, nel frattempo di una chiacchierata, confessa proprio di essere una nobile. Il padre infatti della ragazza è un marchese, una confessione che spiazza ma allo stesso tempo spaventa Alessio, che immagina l'eventuale incontro con la famiglia dell'altronista. Arrivati in studio, lo confessa, anzi lo riconferma, di essere una nobile, rassicurando però Alessio. L'altronista infatti puntualizza di non essere una snob e di essere così proprio per i valori che le hanno trasmesso i genitori, i quali pretendendo solo determinati atteggiamenti nelle varie situazioni. Lavinia poi tiene a precisare che non avrebbe mai voluto svelare le proprie origini, ma di aver scelto di farlo perché la notizia cominciava a circolare un pochino sul web. Mio padre non è che fa il marchese come professione, non è che stiamo con le corone dentro casa, giusto per farvi un'idea. Però poi confessa di vivere in una villa composta da quattro piani. La stessa domanda poi viene posta al corteggiatore di Lavinia, Alessio gli dice io ho tre piani più la mansarda. Spaventato dalle origini di Lavinia, ma sicuramente preso da lei, Alessio continua la conoscenza con l'altronista di Uomini e Donne. Vedremo nelle prossime puntate che cosa accadrà. Lascia un mio like se ti va e iscriviti al mio canale. Ciao e alla prossima! Grazie a tutti!